Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qui con la Fourier Silence, l'aspettavate dopo un primo episodio abbastanza fallimentare Sono ancora qui, io non mollo, io ci riprovo e ci riproverò chiaramente anche nelle prossime settimane Supportate la serie mi raccomando e se vi siete persi qualche video andatelo a recuperare, trovate tutto sul canale Quest'oggi classici tre click ma partiamo dall'MLS, dalla mia squadra preferita dell'MLS ovvero l'FC Dallas Il primo click ci manda in Danimarca, il secondo click ci manda in Inghilterra in Championship Il terzo click ci manda in Italia al Torino, partiamo dalla Serie A, attenzione alla svolta La formazione del Torino la conosciamo bene abbastanza tutti mi verrebbe da dire Una linea difensiva ottima, forse si potrebbe rinforzare il portiere a centrocampo tra Ricci e Illich Ci siamo e anche nella zona offensiva non mi posso lamentare, chiaro un altro a T potrei buttarlo dentro Se no mi basterebbe mettere le due punte Sanabria-Zapata con Vlasic trequartista Potrei cambiare il modulo in questa maniera, sicuramente ciò che va rinforzato sono gli esterni Abbiamo 24 milioni quindi qualcosa si può fare Cerchiamo di capire anche gli obiettivi di questo Torino perché quello della crescita giovani non è fattibile Devo acquistare un veterano, ottimo questo si può fare Raggiungo gli ottavi di finale di Coppa Italia e qualificati per una competizione europea Molto importante questo obiettivo però in realtà il livello è normale quindi non dovrei avere particolari problemi Sfoltiamo la rosa e poi ci pensiamo agli obiettivi Piccolo appunto per chi segue i miei video dedicati a Starks C'è stato un nuovo listing Oltre a Mancini che è ancora disponibile Oltre a Nasti che è ancora disponibile E' stato listato Lovato Difensore centrale 23enne della Salernitana Quindi se volete puntarci ci può stare Soprattutto a questo prezzo conviene sempre Per chi ancora non sapesse che cosa è Starks Trovate dei video inerenti a questo fantacalcio Chiamiamolo così per il momento Comunque nei video vi spiego tutto nel dettaglio Semplicemente Starks mette in vendita dei token Legati alle prestazioni dei calciatori Che sposano il progetto Starks Quindi questi token aumenteranno o diminuiranno di valore A seconda delle prestazioni del calciatore Fate un salto sui video dedicati Dateci un'occhiata perché per me è un progetto molto interessante Questo è il calciomercato che ho deciso di fare per questo Torino Edin Vyska per l'esterno di destra 33 anni che mi ha dato la possibilità anche di concludere l'obiettivo veterano Sulla sinistra invece ho preso Haktur Koglu Che è un pochettino più offensivo Ma secondo me può fare anche la doppia fase Per quanto riguarda la porta Ho upgradeato in maniera importante Prendendo Mateus Perché Milinkovic Savice non mi dà sicurezza Cioè Oggettivamente parliamoci chiaro ragazzi Non so se è una popular opinion Però secondo me Milinkovic Savice Se non avesse avuto quel fisico Col cavolo che sarebbe arrivato a questi livelli Mi viene a prendere a casa sicuramente E poi Hugo Kuipers per quanto riguarda l'attacco Quindi alla fine dei conti Questa è la mia squadra finale Sono contento sinceramente Perché ho rinforzato tutte le zone del campo Come avete visto poi ho cambiato modulo Perché sono passato a un trequartista con le due punte Il primo sostituto sarà Hugo Kuipers Sono soddisfatto Vediamo cosa riusciamo a fare per questa prima stagione Ma raga io ve lo posso dire Che questa volta Ci è andata bene Ci sta andando di culissimo Stiamo facendo dei risultati clamorosi Cioè dei risultati clamorosi Ora La società è contenta Cioè 6 a 1 al Monza 3 a 1 alla Juventus 3 a 1 al Frosinoni 4 a 2 all'Inter Cioè guardate che aprile Spettacolare mi verrebbe da dire Ora Con questi risultati Un piastamento europeo Ci potrebbe pure essere stato Sicuramente La Coppa Italia L'ho vista subito andare Abbiamo perso col Catanzaro Comunque andiamo a vedere Insieme i risultati Cosa vi avevo detto Questa volta C'è andata di culissimo Se nella prima Foriers Allens C'è andata di mega sfortuna Questa volta abbiamo raggiunto La Champions League Neanche dici La Conference L'Europa Siamo arrivati terzi 76 punti Con un grandissimo turno Abbiamo segnato Una vaccata Ma abbiamo subito anche tanto Quindi Classica Da simulazione Per quanto riguarda invece Appunto la Coppa Italia Con il Catanzaro Non mi ricordo quanto Però sinceramente Turno 1 Turno 2 Ecco 4 a 3 Con il Catanzaro Incredibile La linea difensiva Matteus intanto Si è fatto più Una linea difensiva E' cresciuta molto bene Buongiorno Cresce davvero tanto Sassanov Lo sapevamo Più 3 per Aktur Koglu Molto bene Da questo punto di vista Ricci Più 2 Illich Più 4 Vlasic Più 2 10 gol 11 assist Sono tanti Visca E' calato parecchio Comunque rimane un 75 Importante Sanabria 14 gol Qui per 16 gol Ha giocato più di Sanabria Ok E Zapata 25 gol Zapata Ha segnato Come un animale Beh raga A questo punto Abbiamo la possibilità Effettivamente Di puntare in alto Di puntare A una bella zona Champions League Magari perché no Napoli Juventus Inter Milan Potrebbe essere una Foria Sallenge Di questo Di questo tipo Perché secondo me Se vado da Questi ragazzi Io provo il Napoli Oh Allenatore della squadra Napoli Ragazzi E' andata bene E' andata bene Un po' a confermare Quello che avevamo detto Anche nello scorso episodio Che se le cose vanno bene Nella simulazione E devo ammettere Ci ho messo più tempo Rispetto alle scorse Foria Sallenge Perché sono stato più L'inel A controllare Chi gioca Chi non gioca Insomma E' stato poco più Ma scusatemi Ma Iuri c'è più Simone Inzaghi Di Simone Inzaghi Clamoroso Vabbè A parte questo Sono stato un pochettino Più attento Nel cercare di far girare tutti Nel dare le risposte Alla chat Dei giocatori Per alzare il morale Insomma Ci ho messo più tempo Rispetto al solito Però Se stiamo un pochettino Più attenti Le cose possono effettivamente Andare bene Ecco per esempio Con questo Napoli Che è veramente devastante Manca secondo me qualcosa Nella linea difensiva Un altro centrale Abbastanza forte Un altro terzino Di sinistra Poi in realtà qua ci siamo Perché abbiamo Osimenzo Abbiamo Kvara Vabbè Insomma La formazione del Napoli La conoscete Un'altra di destra Why not Ma dicevo Qua sarà sicuramente Più complicato Tenere il morale Alto Perché abbiamo Zielinski Abbiamo Lindstrom Abbiamo Cajust Sicuramente questi Vorranno fare Parecchi Minuti Quindi devo Alleggerire La rosa Dobbiamo chiaramente Andare ad acquistare Qualcuno dal Torino L'unico movimento Di mercato In entrata Che possiamo fare Ma c'è effettivamente Qualcuno Che può fare Al caso nostro Forse Buongiorno Proviamo a inserirci Leo Ostigard Che sta facendo Una stagione In questo momento Davvero Clamorosa 35 milioni Più Leo Ostigard Per Buongiorno Va benissimo Tifosi nel Napoli Vi piacerebbe Avere Buongiorno Sulla linea difensiva O per il momento Voi siete a posto Nella realtà Con quelli che avete Fatemelo sapere Sotto nei commenti Seconda stagione Con un sacco Di uscite Ma appunto L'arrivo anche Di Buongiorno Che potrebbe Fare il titolare Al posto di Ramani Eeeh Salito di un punto Overall Per il terzino Di sinistra Combiniamo la grossa Acquisto dal Magister City Ma sapete Bene E meglio di me Che giocava Nel Barcellona Leandro Baldè Secondo me Sopra i 50 milioni Fuori di testa Anche perché io non ho offerti 50 mila Menzo 50 mila alle pillole Ho bisogno delle pillole Dove le ho messe Ci tuffiamo allora Sull'ala di destra Da che fusa a cubo Raga Secondo me È vero che a 23 anni In 82 Forse non è sviluppatissimo Ma può fare i buchi Non lo so Ho questa impressione Per me quest'anno L'hanno fatto davvero tanto forte Soprattutto Dopo l'esultanza Guardate che faccino Che c'ha Dopo l'esultanza Con quella Twerkata Lì Nuovo idolo Possiamo tornare Su Baldè E offrirgli La cifra giusta Ovvero 60 milioni Probabilmente Aggiungiamo una clausola Sulla rivendita E voglio uno 76 Giusto per farvi capire La potenza La forza Di questo giocatore Vabbè senti Tietti sti 76 milioni E va bene così Ci mette 21 settimane Per diventare uno 84 Ma non ho dubbi Per me Alla fine dell'anno Se le cose vanno bene Potrebbe essere pure 85 Ho preso così Con quei pochi soldi Che mi rimanevano Barrenecea E Beruato Come terzino sinistro Italiano Perché mi serviva Un giocatore Della stessa nazionalità Del club Per chiudere Un obiettivo Ora Questo calcio mercato Non è esplosivo Molto interessante Ho cercato di coprirmi Un po' anche Per la prossima stagione In caso le cose Non vadano bene Questa quindi È la nostra formazione finale Ma di Lorenzo Ma di Lorenzo Quanta è una belva Qualcuno è anche già salito Come Cubo Balde Non avevo dubbi Anche Buongiorno Diventato un 83 Capitano del Napoli Così a caso Ma va bene lo stesso Seconda stagione Vediamo cosa succede Attenzione Perché questi sono i quarti Siamo in semifinale Di Champions League Contro l'Inter Regà Siamo in finale Siamo in finale Di Champions Quella cos'era La coppa La finale Di Coppa Italia Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Siamo in finale Contro il Paris Saint Germain Alla seconda stagione Non posso crederci Raga Non posso crederci Non posso crederci Potrebbe essere La prima Champions League Nella Florida Challenge Di FC 24 Allora abbiamo passato Questo girone Di Champions Ci sta Ottimo Poi abbiamo battuto Che cacchierola era L'Arsenal Sì l'Arsenal Eccola qua Poi il Borussia Dortmund Poi l'Inter E poi abbiamo Il Paris Saint Germain In finale La Coppa Italia L'abbiamo vinta Sì in finale Contro la Juventus Il campionato L'abbiamo vinto Ragazzi Fantastici Veramente Prima di andarsi A giocare Questa finale Però andiamo a vedere La formazione Perché Balde È diventato un 87 Porca misera Buongiorno Un 84 Di Lorenzo Un 87 Favolosi Vediamo i nostri centrocampisti 40 gol E 14 assist Quarascalia Più 5 di Ovoro È un 92 Solo più 4 per cubo Però comunque La butta dentro È un 92 E anche Osimè 31 gol Devastanti Ci andiamo a giocare Questa finale di Champions Dunque Questa è la nostra formazione La migliore possibile Andiamo a Vedere Cosa ho cliccato Cosa ho cliccato Visuale tattica Ma cosa vuoi visualizzare Scendi in campo Ma starai scherzando Volevo solo farvi vedere La formazione Del Paris Saint Germain Voi siete fuori Da ogni Da ogni Da ogni concessione Ma cos'hai fischiato Ma cos'hai fischiato Ma cos'hai fischiato Servo del Del sistema Cos'è Ma cos'è Lobot che ha preso Solo il pallone No Vabbè ragazzi Non ho Non ho Non ho parole Meret contro un Bappé Che rigore ha tirato Questo Ma che rigore è Cioè che sembra Che l'ha Boh Assurdo Sembra l'apra Ma poi la chiude Ma li tira veramente così Ma che cosa sta succedendo Ma cosa sta succedendo Ma cosa hai fischiato ancora Ma porca Non ho parole Che inferno Dopo 15 minuti Mamma mia Ma poi Prima o poi L'apri sta palla Io non vedo neanche dove va Vabbè ma non ho parole Sì È buona È buonissima È buonissima Lobot che Dai che l'abbiamo riaperta Cosa è successo al polsolo Cosa sta succedendo In questa partita Bravissimo Zimenzo Che corre su Tutta la fascia sinistra Riesce a mettere Un pallone in mezzo Incredibile Lobot che è pronto A metterlo in porta Dai 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 Kvara Dai Kvara Dai Kvara Dai Kvara Dai Kvara Che Io stavo tirando Cosa è successo Fischiando il rigore Boh Direttore di gara Completamente ubriaco E te la metto anch'io là E te la metto anch'io là Al trentottesimo Ai due a due Andiamo a vincere Sta Champions League Olsimenzo Dove è andato Ma dove è andato Meret Ma non gli ho detto Di uscire Dove è andato Dove è andato Ma la cosa sta succedendo Ma non ho più visto Meret in porta Io stavo controllando La difesa Qui Gli hai preso il matto qui Boh Non lo so No Meret Ti prego Ma ti prego Ma era un tiro normale Era un tiro semplice Sozza ragazzi Cioè perché Mbappé Questo non fallisce mai Eh ma dai Sì l'ha messa bene Però lentissimo Un tiro prevedibile Madonna Non so cosa commentare Amici Non so cosa commentare Perché Cioè Varane Non riesce a vincere Un contrasto Con Xavi Simons Buongiorno Buongiorno lì Che non Non lo so Non lo so Quanto mi dispiace Raga Porca miseria Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta È andata così Non sono riuscito A battere il Paris Saint Germain Qua oggi È stata dura Due rigori Sì ok Quello di Varane Ci poteva stare Il primo Regalato E ha spianato la strada Non siamo stati fortunati Quest'oggi Non siamo stati fortunati Peccato perché volevo Rendere felici i tifosi del Napoli Volevo Alzare La mia prima Champions League In una foria al Salen Su FC 24 Sarebbe stato figo Farlo con una squadra italiana Però porca miseria Oggi contro questo Paris Saint Germain C'era Ben poco da fare Questa è un'occasione Che mi rimarrà qui Ci riproverò poi Un'altra volta Adesso credo Di poter cambiare Perché l'overo allenatore O si è abbassato Vertiginosamente E quindi Devo rimanere al Napoli Oppure è alto E posso cambiare squadra Comunque Guardiamo i nostri Avversari festeggiare Giusto così Basta A posto Il Torino In campionato È arrivato settimo Fuori dalle competizioni europee Però Oddio forse va in conference Non lo so Andiamo a vedere le squadre Che ci sono disponibili Il Torino Torino E il Manchester City Facciamo richiesta Al Manchester City E vabbè Qua ci sono i festeggiamenti Per la vittoria Di campionato In Coppa Italia Tutto bellissimo Peccato che io Avrei Voluto vincere La Champions League Parliamoci chiaro Allenatore della squadra Manchester City Signori La terza stagione La faremo a Manchester Stavo controllando Un po' I giocatori del Napoli Purtroppo La maggior parte Non sono in vendita Vedo però Che è in vendita Lobotka Ozymen E Zielinski Ora vi dico la verità Ma se io rivoluzionassi Questo Manchester City E mettessi due punte A parte che al Manchester City Mancano Totalmente I terzini O meglio ci sono i terzini Ma non sono Dei fenomeni Si può fare di meglio Quindi se io facessi così Con Foden qui Ozymen e Holland Dopo andiamo a investire Sulle mezze ali De Bruyne purtroppo Andrà a Real Madrid Vedete qui sulla sinistra C'è solamente Gomez Sulla destra Solo Martinez In difesa avviamo Guardiol e Diaz E ci siamo Dai facciamo così Se no non cambiamo mai E chiaramente Proviamo a prendere Victor Ozymen 190 milioni più Kovacic Guarda che offerta Voglio 212 puliti 212 puliti avranno Signori Cosa Cos'è Che cos'è Ah ok Si è sistemato Vabbè è bastato poco Dai almeno era un baguettino Così proprio Da nulla Quello Ah no c'è ancora però Quello era l'inizio Della terza stagione Il Turino mi chiede Callum Doyle Però quando avanza Non sto capendo Vai Vediamo un po' tu Volevo fare vedere la formazione Posso? Posso Ok Chiaramente è arrivato Ozymen Questa è Mi serve Un'altra mezzala di sinistra Potrebbe servirmi un sostituto Di Foden Grealish Forse posso trasformarlo Da trequartista Potrebbe servire anche un altro attaccante Sicuramente Dei terzini Questi sono gli acquisti Che ho fatto Con il Manchester City Per questa terza stagione Theo Hernandez Per la sinistra Tommaso Baldanzi Come sostituto Di Phil Foden Sulla trequarti Dovevo dire Come Calvin Phillips Calvin Phillips Faccia già parte Del tuo Manchester DC Lo sono andato a ricomprare Perché l'avevo messo In scambio A un giocatore Che non è presente Qui Non so come mai Poi ho preso Balogun Come sostituto O di Ozymen O di Oland Per inserire un attaccante Un pochettino diverso Con caratteristiche diverse Ragazzi l'acquisto migliore Che non è assegnato lì Lo vedete qua Bellingham Non so perché Non l'abbiano messo In ogni caso Questa è la nostra formazione Corta Come sempre Perché se no I ragazzi Si lamentano Andiamo a simulare Raga Possiamo provare a vincere La Champions League Con questa formazione Per me si Il pollice della società Piano piano È lì che fa così Abbiamo il Bayern Monaco ai quarti Oh però Vittoria 2-0 All'andata Semifinale Di nuovo semifinale Contro l'Inter Di nuovo in semifinale Come prima Col Napoli No dai raga Ho perso contro l'Inter Ho vinto la Premier League Ho vinto anche l'FA Cup Finale di Champions Inter Newcastle Io non sono riuscito A fare un gol all'Inter Ragazzi Non ho parole Cioè Io veramente Non sono riuscito A fare un gol all'Inter Con Oland Che ha fatto 48 gol stagionali Osiman 29 Foden 25 Non sono stato in grado Di fare un gol all'Inter Con Silva Che fa 36 assists Foden che ne fa 16 Ah beh Sono abbastanza scioccato Anche perché ho dovuto Far volare a Kanji Perché mi aveva rotto le palle Mi aveva chiesto La cessione Quel brutto pagliaccio La squadra è Dilaniante E a questo punto Io Provo a cambiare squadra Cioè Quando c'è la finale di Champions Quando 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 c'è la finale di Champions Il 6 di giugno Follia totale Anche perché la squadra è più scarsa Ha allenato la squadra Newcastle Signore Oddio Proviamo a vincere la Champions Contro l'Inter Lo so che così Vale e non vale In realtà non c'è un regolamento Cioè io posso fare quel cacchio Che mi pare Il prossimo anno Proveremo nel caso A ritornare In finale di Champions Con il Newcastle Devo assolutamente vincerla Perché Newcastle Non ha raggiunto Una competizione europea Il prossimo anno Devo assolutamente vincerla Così il prossimo anno Sono di nuovo in Champions Non l'avevo visto Davis Non l'avevo visto Davis Beh la squadra è una squadra Della mazzurca Mancano un po' di ali forti Però in realtà Possiamo Farceli andare bene Forse abbiamo fatto La porcata dell'anno Oh senza forse Abbiamo in campo Sempre sul pezzo Forza Newcastle Per provare a vincere La Champions League Raga Eh questa è una porcata Lo so Valuterete voi Se Simone Inzaghi Che incontra Simone Inzaghi Valuterete voi Se questa cosa È legale Nella Foria Challenge Fatevelo sapere Sotto nei commenti Sta di fatto che Ci andiamo a giocare Un'altra finale di Champions Al Miron Occhio a Isaac Occhio Isaac Accelera Isaac Eh beh Eh beh 1-0 Newcastle 1-0 Infirmabile Alexander Infermabile Con Ali L'ammiraglio Bombarda Sta porta L'ammiraglio Al Miron 2-0 E qui E qui Siamo più forti Misa raga Oggi Sento Che ci siamo Bellissima Bellissima Bel gol Dell'Inter Davvero un bel gol Dell'Inter Una pala Clamorosa Non so chi è la data C'ha la no Clu No Barella Proprio Classico Cross Alla Nicolò Barella Bravo Broca La nostra difesa Non so Cazzo La forse Pamecano Ma fa lo stesso Ma Io cosa devo fare Se il gioco Mi sta punendo Ma questo è un episodio Folle Totalmente folle Ragazzi Totalmente folle E poi è palese Come non mi vogliono Fa vincere Cacchio Anche perché ho fatto Quei due gol Poi nulla Poi nulla Non che l'Inter Avesse fatto Più di tanto Però I presupposti Erano diversi Bellissima Oddio Tonali che segna L'Inter Tonali che segna L'Inter Che sofferenza Per il cuoricino Sandro Tonali Signori Eh Questo è Questo è Questo è Abbastanza pesante Devo ammettere Che questo è Un avvenimento Questo è Folle Come questo Episodio Ecco Sono tutti Così i gol Che subisco 3 a 3 3 a 3 Tutti così Tutti così Tu non puoi intervenirgli Quando loro van così Sul lato Non puoi Ti scivolano via Madonna Io non posso crederci Che ce la Giochiamo ai rigori Quanto è grosso Inglesias Prego Ma che cazzo No vabbè ragazzi È un inferno Volevo fare Volevo Volevo fare In culata E va a Faggiro E para questa Trap Non ho parole Otaro Martinez Troppo Pup The poop Occhio a bargi Mannaggia Mannaggia No Vai Oh te butti ancora di là Trap Dai un po' Oh signore Dima Marco Che tensione ragazzi Camara Ok Siamo ancora vivi We are still alive Bruno Guimaraes La mia L'ha fatto L'ha fatto Un ali Oddio Mi vien da piangere Mi vien da piangere Non posso crederci Non posso crederci Ragazzi Ho cliccato per sbaglio Volevo vedere l'Inter Festeggiare Ma non ho parole Non ho parole Ho voluto fare La porcheria E l'ho presa L'ho presa L'ho presa L'ho presa Malamente La FU Non si conclude qua Perché dici Non hai raggiunto la Champions Entriamo nella prossima stagione Proviamo a cambiare squadra a gennaio E vediamo se riusciamo ad andare di nuovo in finale Però che inferno Non avevo molto interesse a fare colpi clamorosi Con questo Newcastle Perché o cambiamo squadra a gennaio E andiamo in una squadra che è ancora in Champions League O non possiamo fare più nulla Ho preso Berardi Nugnes Nugnes perché è il giocatore della squadra precedente Ed è l'unico che mi potevo permettere In realtà Quindi rafforziamo il centrocampo con lui In caso non riuscirò a cambiare squadra Signore La Forest Highlands terminerà Perché? Perché quello che dovevamo fare Ormai l'abbiamo fatto E i falli mezzi Che dovevamo fallire E li abbiamo falliti Oh no Attenzione perché siamo arrivati a gennaio Con un overall considerevole La nostra posizione in classifica Non importa molto Siamo sesti Avevamo anche l'Europa League Ho notato Giusto per completezza Ve lo mostro Sono arrivato primo in questo girone Chiaramente non avrò il turno preliminare Vado a vedere un attimo Chi è rimasto in Champions League Però Perché abbiamo Atletico Allora Le Spagnole Direi che Ci sono tutte e tre Arsenal Liverpool City Chelsea Pure il Tottenham Milan Oh attenzione ragazzi C'è di nuovo il Napoli C'è di nuovo il Napoli Io vado al Bayern Monaco Voglio vedere se riesco a falli pure lì Però contro il PSG Che cosa Cosa sarà mai Cosa sarà mai il PSG No? Proviamo il Bayern Dai ragazzi Allenatore della squadra Bayern Monaco Godo Andiamo Mamma mia che percorso Dal Torino Tutto questo dal Torino Tutto questo dal Torino Incredibile Al posto di Gimenez Ho già visto Pau Torres Sulla sinistra Va benissimo Mendes Sulla mediana E sulla mediana Si potrebbe prendere Il Tonals Proviamo a dargli Sané Sané più 110 Ma porca miseria Ma guarda se te devo da Nusa Te do Nusa Tanto che cosa me ne faccio Nusa più 110 Si è bloccato Si è buggato tutto Si è bloccato ragazzi Alla fine Tonali è arrivato Per 150 milioni Basta Basta Cos'è? L'unico acquisto che faremo Perché è l'acquisto Dalla squadra precedente Sono a posto così Grazie Possiamo battere Il Paris Saint Germain Secondo me possiamo battere La sfida con il Paris Saint Germain Si avvicina Vediamo l'andata Vinciamo 1 a 0 Attenzione perché può essere Assolutamente un risultato positivo Per il passaggio del turno Speriamo possa bastare Ecco il ritorno Ok Abbiamo ballato il Paris Saint Germain Signori Siamo in quarti di finale E questo è un primo passo Saremo contro il Chelsea Vediamo Sconfitta per 3 a 2 All'andata Niente ragazzi È andata così Dai Boom Esonerato Perfetto Via Ci doveva essere Tutto in questo episodio Mancava effettivamente O l'esonero O la vittoria della Champions Ah sì All'Adenheim È stato un viaggio incredibile Siamo partiti dal Torino Abbiamo giocato la finale di Champions Con il Napoli Non siamo andati vicino a vincerla Perché purtroppo Il Paris Saint Germain Ci ha asfaltati Poi Ho detto Io provo Niente Comunque Fare quella porcheria lì È stato La cia gira sulla torta Su una bella torta di merda Perché alla fine Ragazzi Ci hanno preso Ammazzate ovunque siamo andati Ma È andata meglio Dello scorso episodio Sì Sinceramente sì Raga Sono comunque soddisfatto È stato un bel episodio Divertente Spero vi siate Assolutamente divertiti Ora io qui Non è inutile che vada A continuare A giocarmi pure I play out Ci salutiamo Eh Ci salutiamo Ci salutiamo Semplicemente così Andiamo a vedere Come 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 si è costruito Poi alla fine il Torino Visto che è stata la squadra Che abbiamo avuto dall'inizio Per il resto Ho bisogno di una pausa Ho bisogno di una pausa Perché Allora ci stanno a 4 Ore Allora Importa Vlacodimus Ok Poi c'è Callum Doyle L'abbiamo venduto Noi dal City Acturkoglu è ancora lì C'è Fufana Luis Alberto Ancora Ancora Vlasic Vediamo in attacco Coopers Aralson Rafa E Solanke Un discreto Torino Comunque Un discreto Torino Ragazzi Ci vediamo alla prossima Spero vi siate divertiti Spero vi sia piaciuta Questa 4-year challenge Continuiamo di questo passo E prima o poi La Champions La andremo a vincere Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie.